Lancia di Roos verso Vardy, rientra a porta del Stiegen, è libero dentro Abraham, Vardy lo guarda, lo serve, palla sul secondo palo, la conclusione in porta di Trippier, finisce larga, subito emozioni a Wembley. Asdenberg, finta di cross, va corto da Sané che vince, rimpallo, destro largo di Leroy Sané, primo brivido per l'Inghilterra, è libero Zil, è partito anche Sané, servito Zil con una gran palla, imbucata, Werner punta alla porta, Werner, Pickford e poi Sané controlla, sinistro sulla linea Jones, non è finita, Draxler, alto, tripla, ghiotta chance per la Germania, Ma il vantaggio non arriva, la palla scorre, Werner è posizione buona, Werner, Werner, Pickford, altra parata superlativa di Jordan Pickford all'esordio. Maguire, vede Abraham, movimento in aria, Abraham, deviazione, palla larga, incredibile occasione per l'Inghilterra. Trippier, bella apertura, può crossare, in mezzo a Vardy, Ter Stegen, gran riflesso, subito pericolosa l'Inghilterra. Tutta la Germania, presidio della sua area di rigore, presidio della sua porta, Rashford batte morbido, secondo palo, c'è Maguire che spinge il pallone verso l'inguard, ultimissimo occasione del match che finisce adesso dopo 3 minuti e 40 di recupero, non riesce a sfatare il tabù della Germania in casa l'Inghilterra, fa 0-0 contro i tedeschi. Grazie Grazie Grazie